Buonasera a tutti e benvenuti a questo quarto incontro di meditazione. Il tema di questo incontro è il silenzio. Mi è arrivato anche un titolo molto bello in compagnia del silenzio. In effetti è la migliore compagnia. Parlare del silenzio è un controsenso. Lo so, me ne rendo conto, ma qualcosa devo pur dire, quindi ho piacere di dirvi alcune cose. Il silenzio non è tanto una condizione esteriore, non è l'assenza di suoni, anche se normalmente intendiamo questo, ma il nel nostro, nel campo della meditazione, il silenzio è una condizione interiore. Il silenzio dentro avviene quando non sono nei miei pensieri, non sono nei miei sentimenti, quando potremmo dire, non sono in compagnia con queste cose. Se mi osservo durante la giornata, io sono sempre in compagnia di qualcosa. Spesso sono i miei pensieri che mi tengono compagnia. Mi fa anche piacere a volte pensare. È bella, una bella attività. Abbiamo i sentimenti che ci tengono compagnia. Ci sentiamo vivi attraverso i sentimenti. Sono tutte belle cose, ecco. Sono in compagnia delle mie sensazioni fisiche, delle sensazioni che avvengono attraverso i miei sensi. Ecco, in questo senso compagnia, compagnia, no? Sono con, ecco. Ma quando lascio andare tutto questo, quando non mi fermo lì, quando non mi identifico con questo, a un certo punto è come se avvenisse uno stack, come se si staccasse qualcosa, come qualcosa che prima era appiccicato, stack. Ovviamente sto usando delle parole, delle immagini. La consapevolezza si stacca dall'oggetto di cui era consapevole. Nelle lezioni precedenti abbiamo meditato proprio su questo aspetto, no? Come noi, come consapevolezza, siamo consapevoli dei nostri pensieri, dei rumori esterni, delle sensazioni del corpo. Quindi abbiamo lavorato in questo, no? Abbiamo meditato su questo. Ecco, il passo in più che facciamo questa sera è proprio questo. Ed è un passo che non possiamo chiaramente fare con la volontà. Cioè, più andiamo avanti nella meditazione, meno veramente possiamo fare. E più le cose accadono. E quello che di solito accade, a questo punto, è che in questo essere consapevoli di ciò che accade, la consapevolezza si stacca dall'oggetto di cui è consapevole. E qui c'è il vuoto, e qui c'è il silenzio, qui c'è il vuoto, qui c'è il silenzio. Silenzio è una parola, ovviamente, non può descrivere cosa veramente avviene, però questa è un'esperienza. Un'esperienza che avviene quando la consapevolezza si stacca dal suo oggetto. Ora, noi non possiamo far accadere questo perché noi siamo già un oggetto della consapevolezza. Quel senso di me è già un oggetto della consapevolezza. Quindi noi non possiamo farlo, possiamo stare lì e lasciare che accada. Può essere che accadrà in un attimo, che accadrà durante questa seduta di meditazione, può essere che accadrà fra un mese, non è quello il punto. Il punto è che accade, accade. E quindi questa sera vorrei guidarvi attraverso questo processo, questa meditazione, dove noi semplicemente non facciamo in realtà niente di diverso di quello che abbiamo fatto finora. Siamo consapevolezza. E ecco, mentre faremo questa meditazione, vedremo. Io chiaramente non posso che qui usare delle parole, ma io credo che a te arriverà più delle mie parole, perché tutti insieme che meditiamo, siamo centinaia di persone, creano un campo di energia molto molto forte. Questo negli altri incontri l'abbiamo avvertito, l'abbiamo sentito. Quindi quello che ti arriva in realtà non sono solo le mie parole. Le mie parole sono come un veicolo su cui però arriva, attraverso cui arriva molto altro. Arriva tutto questo campo di energia che di tutti noi che stiamo meditando. Quindi quando tra poco farai questa meditazione, entrerai in questa meditazione, lasciati trasportare. Ascolta pure le mie parole, ma non con la testa, non pensarle, non ragionarci sopra, non cercare di capirle. Lasciati trasportare. Bene, chiudi gli occhi ora. Come abbiamo sempre fatto in questi incontri, una prima parte io ti conduco dentro questa meditazione, poi mi fermo e da lì prosegui da solo e fai questa mezz'ora di meditazione dove tutti insieme siamo collegati, siamo connessi. Quindi io adesso ti guido per un po' e poi te lo dirò, ti lascio, spengo tutto, medito anch'io e tu vai. Ti lascio andare. Quindi chiudi gli occhi, fai qualche respiro e non ti aspettare nulla. Non siamo qui per raggiungere un risultato. Il miglior modo per meditare è veramente non avere nessuna aspettativa. Ti dirò ancora di più. Non fare neanche meditazione. Perché anche questo è già un qualcosa. Già ti mette in una disposizione di dover fare qualcosa. Semplicemente chiudi gli occhi, ti rilassi e lasci fluire. Fluiscono i suoni che senti. Fluisce la mia voce dentro di te. Lasciar fluire vuol dire che in qualche modo non la afferro, non la trattengo. Non la guardo con lo scopo di far qualcosa. Non intervengo. È come se fossi trasparente e tutto mi passa attraverso. Ecco, sono immagini ovviamente, ma cerco di darti proprio un'idea. Quindi questo, tu sei lì, hai gli occhi chiusi, respiri e lasci scuolare. Lasciar scorrere vuol dire anche non aver interesse in quello che stai percependo. Cioè, se sento ad esempio un ronzio, non sto a, come dire, a pensare chissà cos'è, un'ape, una mosca. Non c'è interesse. Questo è anche lasciar fluire. Non ho un interesse preciso su questa cosa. Ogni cosa che percepisco in realtà non ho interesse. Non c'è un me che vuole sapere qualcosa su questa cosa che percepisco. All'inizio questo può non esserti facile perché tutto il nostro sistema nervoso, tutto il nostro cervello è fatto per acquisire informazioni ed elaborarle. Qui invece io ti chiedo di lasciare andare questo processo di non farlo, di non seguirlo. o se avviene non sei interessato neanche a questo. Non è importante sapere ecco il che cos'è col suono che hai sentito o quell'odore che percepisci. Tu rimani semplicemente consapevole. All'inizio questo E se riesci, nella misura in cui riesci, coglierai che c'è silenzio, c'è un silenzio che non viene dall'esterno, non viene neanche da dentro di te, non è da qualche parte. Tu lascia che sia, non cercare di afferrarlo, di studiarlo, di capirlo, rinuncia anche a chiamarlo in qualche modo. Lasciati semplicemente andare in questo. Io ora mi fermo qui, perché da qui in avanti ognuno va da solo, tutti insieme ma da solo, nessuno può accompagnarci. Buona meditazione.